Ragazzuoli, se volete supportarmi su Fortnite basterà andare nell'Item Shop, cliccare nel rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Kratomis. Accettare e il gioco sarà fatto. Non appena avete inserito il codice lo vedete scritto qui in alto a destra. Ringrazio tutti coloro che decidono di supportarmi. Ah ragazzuoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Nessuno, guarda intorno, c'è qualcuno intorno a te. No, mi padano addosso. Non armi. Non armi. Questa è un pompa. Non puoi scappare. Io vengo col tattico. Zitto. Un millisecondo mi devi dare, camper. Ho il reddito, però, mi butto. È solo, eh? È solo questo qua. Sto arrivando col geyser. Un secondo lo ho visto spaccare. L'ultimo geyser sono andato e arrivato. Ma nel ground? Stiamo arrivando in due qua. C'è il turno per l'amico? Batto sopra. Io ho trovato tutto lo cilio da qua. All'amico. Uno quasi a terra. Il bianco è one shot. Credeva fossi l'amico e io ho dato due quattro. Però non è morto di tattico grigio. Ha tipo 10 HP. Bianco, bianco, bianco. Una terra. Ok, scusa. No, non è lui. È un mongral. Sì, da me si scelta, però. Dammi si scelta. Non lo so. Non ci siamo a intarlo. Seguiamo da vedarsi che è solo. Poi vediamo. Se c'è l'amico... Ciao. Mi sa che l'hanno sbarrettato. Non l'hanno preso, però io non ce n'è modo da fare. È andato sotto, 100%. Guarda per forza. Stanno affaitando. Vediamo com'è. Guardali, guardali. È solo, è solo, è solo. È più bianco, bianco, bianco. Di lato. VG. Io rimango sotto, eh, perché non me la fido. Vieni sotto. Ho i morti. Uno, c'entro più. No, ho ristato 200. No, ma sei un co***o. Sai perché? Perché me. Eh, ma ora mi ammazzano questi. Arrivo subito. No, arrivo subito. Mi ha accampato? Dove è terra? Mamma mia. Cioè, sono... Scopo, come? No, è quelli di prima, è quelli di prima, sono quelli di prima. Mamma mia. Quanto cazzo scopo? Quanto cazzo scopo? Allora, sentimi bene. Zitto! Hai pure spiegato un rift. Sei un mona. Possiamoci subito, barca. Vai, vai. Sì, sì. Ho cercato un picca picca. Sua madre, quella grande... Ti copro, vai, vai. Pusciano. Ok. Non è che mi copri. Dammi un picca. Mi copri, shit. È solo, è solo questo, è solo questo. Sono in due, sono in due, sono in due. Siccome lontano, però. Uno a 100 blu. Al cacciatore blu è solo qui da noi. 36 al maschio, quello distante. Tiered party, ah? Ok, se ne sta ritornando dall'amico questa. Però io gli ho fatto 100 blu. Si voleva curare, non si è fatto manco gli scildini. È il cacciatore blu. Cacciatore argentino. Eccolo qua da me. Una, due, tre. Sta scattando. Ho provato. Hanno riftato, riftato. Vieni, 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 rift, rift, rift. Ok, fermo, fermo. Prendiamolo. Entra, entra, entra. Mi hanno spiegato un rift, va bene. Vediamoci la montagna. È clean. No, è fuori safe. Fuori safe. Come è fuori safe? Fuori safe. Fuori safe. La manzagnetta no, però. Guarda me no. Ah, sì, è fuori safe di poco. Niente, rift. Possiamo andare qua sotto. Dove fai da no? Non è vero. No, è... Qua sotto, barca, non abbiamo molta scelta. Però, guarda, c'è un botto di loot. Ce l'ho lanciato a zioro. Io lì c'è andrei, c'ho cinque flingers. Io lo facciamo prendere. Vai allora. Perché mi serve il waz? Tiro a questi, tiro a questi tutto. Leva, leva. Scazzo. Tirate. E' un altro big posto. Ok, guarda, 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 guarda. Ok, guarda. Senta molto... Dio, sono quelle cose. Ok, c'è la blanco, l'alco. L'alco, l'alco. Terra uno. L'alco. Ok, morti, 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 morti. Eh, from behind, from behind, from behind. Ho avuto. Oh, what the fuck. Oh, my fucking god. Rift, c'è tutto. È tutto. Rift, rift. Non posso. Vi tiro una scelta. Dobbiamo riftare. Dobbiamo tirare minasso, io. Riesco a riftare, non riesco. Vi tiro una scelta. Ho un po' di max, ma non ci lasceranno mai stare. Vi tiro un caffare e la scelta. Fermati. Forse si fermano. Tirati tutto quello che hai, tirati tutto. Barca, è qui, cazzo. Non si fermano. Ho 20 HP. Eh, siamo morti, siamo morti. Ha spiegato tutti i razzi per noi, questa. Più quelli con tutti i colpi loro. Te li devi andare, te li devi andare da qua. Oh, sta a capire. 4. 2. Madonna, barca. Vilda subito, vilda subito. Madonna mia, ferma. Fermo, fermo. Madò. Slurp. Fatti una scelta, fatti una scelta, fatti una scelta, fatti una scelta, fatti una scelta. Capri. Ok, non è noi. Copri, 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 un secondo o no? Vai, vai. Ok, vieni, vieni, vieni. Devo coprirmi adesso, eh. Mi fido. Ha finito, Dio santo. Ma che cazzo? Dio santo, che... Dio santo. Ok, ok, sono fine, sono fine. Che cazzo? Oh, Dio santo. Fatti gli scelta. Ti sono sti scudoni, ok, ho tutto. Vieni, fatti lo scelta. Mi sta salendo il sangue al cervello, Martina. Holy fuck! Holy shit! Rift, rift, rift. Oh my goodness, brother. Io c'ho 10 Klinger, by the way. Ho 10 Klinger. Comunque, comunque dicono, dicono, dicono che abbiamo ammazzato questa page, immagine, non so se è vero. Quattro, tieni, prendi sti cosi, prendi sti cosi, ne ho quattro. Ho un rift pure. Io ho due pad già di mio, ho due pad io. Aspetta, aspetta, guardi, oddio. Calmiamo. Io ho due panci pad, eh. Non ne ho quattro. Rifto, guarda che è sopra il monte. Qui dobbiamo prenderci tutto noi. Vai, mi diamo in marcona. Proviamo a prendere il pad. No, 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 no. Rift a capire. Dovevo prendere qualcosa, ma non prendere un cazzo. La montagna, la montagna. Ho quattro trappole, spammale se le hai. Mettiamole per terra. Mi hai salito il sangue al cervello, ti giuro. Cioè, il sangue è proprio ovunque. Andiamo su quella building in legno, dovrebbe essere in safe. Sì, sì, sì. Cioè, dai, questo per build, arricchiamoci questo. Non è vero, è un pazzo. Prima di arricchiamo il legno. Sono sopra, io. Anch'io, anch'io, anch'io. Io sono sopra di tutti. Hai l'aleground? Sì. Oh, bene, non poto cogliere. Lo riprendo. No, 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 è solo l'ora. Non conviene, non conviene, non conviene. No, 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 no. Guardate. Ok, siamo insieme. Uno è qua sotto. È il mio, socoso? No, niente, è vanculato. Hai un medikit? Mio. A terra. Era z. Ok. Hai cura? Ok, dobbiamo andare. No, scudini per terra. Ce l'ho, ce l'ho. Tiro uno scudone, te lo tiro. Che mi, prenditelo, portatelo. Mi fai tirare? Ci andiamo un po', ci andiamo un po'. Jump, c'è la jump. Te la, te la a caffo, vai. Eh, sono caduta io. Sono con te, sono con te, vai, vai, vai. Mi devo tirare un big io, mi devo tirare un big. Sono sbagliato. Veni di qua, dopo. Metto una jump. Prendi la ground, prendi la ground, è nostro, è nostro, è nostro. Ti com'è? Una terra, sono in la ground, è nostro. Vieni su, vieni su. Non è nostro, non è nostro, senta il gesto. Vengo sotto, vengo sotto. Sono qua. Ora sì, ora sì. Non è nostro. Non è nostro, ma ci siamo, siamo in mid ground. Devo ricaricare un barret, non ce la faccio. Costruisci avanti, costruisci avanti. Ok. È sceso. Sono su, sono su, sono su. Sono su. Ci fa cadere, mi sa. Metto un paddo. Vale, metto anch'io. Meno male. No, sono, ok. Oh mio Dio. E' one hit, è one hit, è one hit, è one hit. Let's go! Let's go, brother! Cosa abbiamo combinato? Let's go! GG, cazzo. Oh! Holy shit. Vuoi sapere una cosa? Vuoi sapere una cosa? Hai presente quelli che abbiamo pushato? Quelli che abbiamo pushato quando tu mi hai restato? Abbiamo ammazzato Savage e Magin. Ok, e dopo abbiamo killato pure il Zid. Zidino. Ah, quello era Zid? Ecco che cazzo che mi ha tirato la pompata. Mortacci, su. GG, bra. Mica. GG. GG, cazzo. Mica, QRS tattico, barca, con due HP. Madonna, santa. Madonna, santa. Madonna, santa. Grazie a tutti.